Benissimo, esaurita la cerimonia delle vuote. Benvenuti a tutti, benvenuti a questo incontro che chiude un poveriggio intenso, ma apre una serata tanto intensa, infatti vedrete tra poco Ossigeno che chiude questa giornata a omaggio a Piero Canizzaro che si chiama appunto Piero Canizzaro, un autore glocal. Mi piace ricordare che la giornata romana arriva in coda a altre giornate parigine che sono state organizzate dalla Maison d'Italie della Cité Internationale de Paris con l'Istituto Italiano di Cultura e l'Associazione Anteprima. Ho detto bene? Perfetto. E qua invece è la Cineteca Nazionale Centro Sperimentale di Cinematografia che ci ospita. Io vi presento gli altri partecipanti che sono Vanessa Roghi, comincio dalla signora giustamente, Christian Uva, Francesco Munzi e ovviamente Piero Canizzaro. Gli amici che sono qua sono come dire legati in qualche modo tutti da una parola e la parola è storia, almeno in questa occasione perché Vanessa è una storica, anche una storica sui generis, però è una storica. Christian ha scritto un bellissimo libro, L'immagine politica, forme del controvotere tra cinema, video e fotografia nell'Italia degli anni 70, che per me è stato molto illuminante perché io ho sempre pensato ma questo poi lo vedremo meglio dopo, al cinema politico da un punto di vista più di critica storica, storica per cui poi finisco per identificare il cinema politico solamente con Petri, solamente ecco invece tu sei andato a fondo, è davvero un libro straordinario. Francesco Munzi che ha presentato a Venezia Salto al cielo, un film realizzato con materiali di repertorio dell'Istituto Luce e un lavoro molto approfondito, caldo, partecipato su un decennio carico di aspettative ma anche di ferite che è quello tra il 67 e il 77. Piero invece è l'autore del documentario tra gli altri che vedremo stasera, che si chiama Ossigeno appunto e è dedicato ad Agrippino Costa che è una persona straordinaria, io ovviamente l'ho conosciuto attraverso il documentario, è una persona dalle mille vite, però soprattutto che in tutte queste vite che ha attraversato non ha mai perso lo spirito d'artista che è quello che l'ha tenuto in vita, ma di questo poi parliamo meglio. Io però comincerei forse da te giustamente, sei l'ospedale d'onore quindi vorrei prima di tutto l'abidario, vorrei sapere come è andata la tua retrospettiva a Parigi perché sono curiosa di sapere sempre come un nostro autore è accolto all'estero, soprattutto in un paese che non è per niente facile come la Francia, questo per cominciare e poi invece vorrei che tu cominciassi un po' a parlare del senso del tuo lavoro perché è un lavoro su una persona, appunto Agrippino Costa che ha avuto questa vita incredibile però è anche un lavoro sulla nostra storia. Tanto grazie, scusate ma è doveroso e sono contento di farlo, ringrazio gli ospiti, gli amici e i collaboratori, da Vanessa, Cristian, Francesco, Piero e Angela, ringrazio voi, ringrazio anche chi è stato qui dalle 6, vedo qualcuno che ha visto anche altri documentari e quindi sono particolarmente contento. Bene, fate tranquilli che la serata sarà sul film, non è che staremo qui da tante ore, insomma, staremo qui abbastanza poco. Però, allora, il film, dico subito che per me questa è una storia di rinascita, di rinnovamento interiore. Ho impiegato 10 anni a farlo, nel senso che mentre giravo La notte della Taranta e dintorni nel 2001, ho conosciuto questo personaggio attraverso un antropologo, Piero Fumarola del Salento, ma subito conquistato e ho sentito che aveva una storia da raccontare. Lui era uscito da due anni, aveva fatto più di vent'anni, non voglio dire molto del film, dico solo come l'ho conosciuto. In una pausa del film, avevo la telecamera, sono andato a incontrarlo e ho preso degli appunti, degli appunti girati, che dovevano essere degli appunti girati. Bene, il materiale era molto forte, dopodiché è rimasto di fermo per 4 anni. Dopo 4 anni c'era stato il caso della Lioce, se vi ricordate, quindi il fenomeno delle Briere era rinato un attimo, quindi sono tornato a Lecce perché mi interessava sentire ancora il suo racconto. Bene, ho raccolto altro materiale, dopodiché era lì fermo ma non sapevo ancora cosa farne, mi doveva saltare qualcosa nella testa. Dopo dieci anni, in una pausa di un altro lavoro musicale, è importante la parola musicale, dopo lo capirete perché, mi è venuta l'idea, dico bene, forse il montatore ha voluto vedere del materiale e dico no, ma va benissimo, facciamolo. Bene, a quel punto si trattava di capire quale strada scegliere. Ho deciso di usare il materiale che avevo utilizzato, che avevo utilizzato nelle precedenti registrazioni, senza fare ulteriori modifiche, soprattutto senza utilizzare volutamente il repertorio, scusate faccio un po', me la è carino dirlo in questo modo, cioè le R4, le BR, perché io che mi sono sempre occupato di paesaggi e paesaggi, 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 secondo me e soprattutto i film musicali sono molto, molto, con un taglio molto veloce, musicale insomma, bene, non avevo il complesso di riempire, fortunatamente l'ho fatto dopo almeno vent'anni di lavoro, quindi sapevo, secondo me, delle volte come nella vita bisogna saper levare, non bisogna sempre aggiungere, e io ho capito che si poteva levare e mi interessava il paesaggio, ma questa volta del volto, perché secondo me questo personaggio andava raccontato così, senza immagini di repertorio. Bene, dovevo trovare, a me interessa comunque il climax, come monto i miei lavori, c'è sempre comunque la struttura, l'emozione e quindi comunque mi rifaccio la struttura della sceneggiatura, qui ci sono anche degli ospiti carini, degli pubblici di cinema, che ringrazio, c'è Angelo Pasquini, Andrea Valzini, che insomma ringrazio di essere qui, di Giglio, oppure, e mi sono perso, insomma, e quindi ho deciso di non usare questo repertorio, e quindi ho bisogno di un finale, il finale è come lo vedrete, e comunque per capire il titolo, il film dura un'ora, lo capirete all'ultimo minuto, e quindi se volete sapere perché ha questo titolo dovete stare qua fino almeno un'ora, cioè, il film dura un'ora. Detto questo, vabbè, ecco, questo è un po' l'idea del film, dopodiché, va bene, è diviso in tre parti, ma lo direte voi, e la cosa che mi viene da dire è che, diciamo, perché ho vicino Francesco, Francesco ha amato molto il suo film, Anime Nere, quindi comunque l'avevo conosciuto proprio in occasione, in occasione, in occasione a Malta, mi ricordo, di un film musicale, dove eravamo ospiti di un festival, e quindi dopo ho saputo che aveva fatto il film sul 68, la cosa bella è che l'altro giorno al telefono gli dicevo, la cosa bella è che lui ha fatto proprio il contrario di quello proprio esattamente opposto di quello che ho fatto io, cioè io proprio non ho voluto usare un'immagine di repertorio, lo vedrete e capirete, lui invece ha usato proprio, però è bello questo, l'ho trovato proprio due modi di affrontare, se vogliamo, un tema in qualche modo di quegli anni, e poi comunque per me è importante, ripeto, una storia interiore, io volevo entrare nell'anima di questo protagonista, ho visto dei bei film, anche francesi, sulle BR, e per esempio c'è uno di Moscò, dove ha preso i Moretti e gli altri, gli ha fatto dire perché in quel momento le Brigate Rosse hanno sbagliato, perché Berlinguer, perché Moro, perché il compromesso storico, a me interessava questa cosa relativamente, a me interessava come un personaggio che ha vissuto quella storia, cosa c'era dietro? L'uomo, tant'è vero che in Francia si sta parlando invece di fare questi due film accostati, una televisione, che secondo me è molto bello, perché non è che è sbagliato, sono due cose che si complementano, a me dopo tanta politica diretta interessava la politica dell'anima, mettiamola così, così come il paesaggio dell'anima. Dopodiché invece, vado veloce, Cristian Uva, ci siamo conosciuti qui, però abbiamo fatto un bel dibattito proprio su Ossigeno e sul suo libro alla Maison d'Italie, è una libreria parigina, e mi sono trovato molto bene, anche perché lui nel suo libro, che l'ho trovato stupendo, mi piace perché mentre io ho vissuto quel periodo, io vengo da Milano, ho fatto gli anni 70 milanesi a Scienze Politiche, quindi insomma mi ricordo De Moro Toffo, mi ricordo il momento dell'autonomia, e quindi insomma quel periodo che voi sapete. E lui invece l'ha raccontato, e mi ricordo che mi ha affascinato, che durante il dibattito eravamo insieme e gli ho chiesto, ma scusa, ma tu perché sei stato interessato a questo? Io posso capirlo perché un po' l'ho vissuto, e lui invece è veramente analitico e perfetto. E invece Vanessa perché si è occupata di storia, e quindi può dire la sua su chi si è occupato anche di cinema e di storia. E Angela perché è una magnifica... Amica. No, perché proprio in questa sala abbiamo già presentato il cibo dell'anime e altri... Scusate, forse un po' dopo, però basta, adesso io... No, visto che sei così, però vuoi passare la parola a qualcosa? Vorrei sentire, vorrei sentire, Angela... No, allora, Francesco, sei stato... Siamo già preparati, io sono già preparati, no? Siamo già preparati? No, ma io adesso no, invece volevo saurire il discorso con gli autori, e no, tu hai saurito il tuo, però Francesco l'ha anticipato Piero, era la domanda che io volevo farti, tu... No, vabbè, hai fatto meglio, la tua scelta è appunto andata all'opposto, cioè tu hai lavorato su quel decennio, dal 67, con materiale di repertorio. Prima di tutto vorrei chiederti proprio perché hai scelto quel periodo, perché non credo che sia stato assolutamente casuale, e perché hai scelto di non mettere testimonianze, ma di utilizzare solo appunto materiale di repertorio, che è un modo di raccontare la storia anche diverso. Intanto non so se i due lavori possono essere paragonati, perché hanno in comune sicuramente, come posso dire, il periodo, il tema, se vogliamo dire, però credo che siano due lavori completamente differenti, nel senso che io sono nato nel 1969, quindi nel 68 non ero nato, ho fatto un film che va dal 67 al 77, e invece ho dei ricordi un po' sfumati, ma anche molto emozionalmente, molto forti della seconda parte di quel decennio, soprattutto quella legata al terrorismo. Noi da bambini nel palazzo giocavamo a guardia e terroristi, non a guardia e ladri, tutti noi cercavamo di fare non le guardie, ma a interpretare i terroristi nel gioco. Una mattina nell'Androido da Vitavo spararono alle gambe di un politico democristiano, per cui questa sensazione, quell'atmosfera dei tardi anni 70, mi appartengo in qualche modo, ma più per un fatto emotivo, però poi negli anni ho studiato, ho visto film, ho letto, quindi è un argomento che comunque mi interessa molto. Allora io cosa ho fatto? Avevo bisogno di saltare il racconto diretto, per una volta, cioè di provare, siccome quella storia lì viene, ancora forse poi ci spiegherà meglio Vanessa, ma non so se ancora si è diventata storia, è un racconto fatto molto dai protagonisti, appunto, il lavoro di Piero ne è un esempio perfetto, cioè è un racconto, il racconto di chi c'era, molto spesso lo stagio, questo stesso racconto di diversi punti di vista, e io avevo bisogno un po' invece di respirare quell'aria, provando ad antingere ai documenti dell'epoca, quindi ai film, ai film volevo rientrare nelle assemblee, sentire di nuovo come si parlava, ecco, cercare di arrivare alla fonte e riproporre la fonte il più possibile senza mediazione, ovviamente questo non è possibile, perché in un film di montaggio si operano delle scelte, e quindi si crea un ulteriore senso, però chi ha visto il film sa bene che ci sono molte sequenze molto lunghe, due o tre minuti, in cui si riesce in qualche modo a rientrare in quegli anni. Io ho iniziato a fare questo lavoro proprio più come una mia esigenza personale di ricordo di quel periodo e anche di ricerca di un materiale che comunque probabilmente sarebbe anche, in parte, anche in condizioni molto brutte, quindi abbiamo fatto un'opera di recupero e di ricostruzione di quel periodo in maniera molto ellittica, anche in maniera storiograficamente sicuramente non esatta, anche perché non è che si trova tutto, non esiste, non volevo fare un bignami, ma volevo raccontare con il materiale di repertorio un po' il sentimento che io nutro nei confronti di quell'epoca. Però io, tornando al lavoro di Piero, invece, io ho visto il lavoro di questo documentario Ossigio prima di aver fatto, non è stato conseguenziale, conosco Piero da un po' di tempo, siamo conosciuti, e quindi sono qui più che da esperto, diciamo, di materie, che non sono, più da spettatore, diciamo, entusiasta del lavoro che ha fatto Piero, perché io trovo ci sia una disarmante contraddizione, ma anche questa è la sua bellezza, fra l'apparente semplicità di questo documentario, perché, come vedrete, è un primo piano, cinematograficamente, è un ritratto, un ritratto proprio nel senso vero, del termine, quindi, fra questa apparente semplicità, ma anche, e però la profondità a cui, che Piero riesce ad ottenere, e la generosità che riesce ad ottenere dal personaggio, da Grippino Costa, questo personaggio che io non conoscevo, che può essere considerato forse quei frammenti che parlano e riescono a raccontare dal piccolissimo, riescono a raccontare molto il tutto, se lo spettatore sa viaggiarci dentro, ecco, c'è, nella lunga intervista, come fare le interviste, comunque, come dire, tirare fuori una verità da un personaggio è una cosa difficilissima, e ovviamente, certo, il personaggio può essere generoso, può essere aperto, ma se non c'è chi sa guardare, chi sa cogliere, ecco, molte volte si rischia di, di non trovare niente, ecco, invece in questo caso, la bellezza del film è che invece Piero è riuscito a penetrare il personaggio, ma, dicevo, restituisce attraverso, appunto, un racconto molto personale, molto, una biografia di un uomo, di un solo uomo, riesce a proiettare lo spettatore in quegli anni, perché c'è, in questo personaggio, o comunque, in come si racconta, quella mistura tra esaltazione, sogno, utopia, ma anche dolore, masochismo, e anche forse, una certa dose, io ho trovato un personaggio di, di avventurismo, cioè quella follia, quel fatto che poi, molto spesso, si mescono i piani, non si sa, ma è se qua, dove, appunto, l'avventura politica, invece, sfociasse, appunto, nella, nella voglia di, di provare qualche cosa di, di estremo, e quindi, diciamo, io ho appena visto il documentario suo, l'ho chiamato, gli ho fatto molti complimenti, quindi, poi, stavo già lavorando su Assalto al cielo, quindi ero anche interessato a, ma, come lo sono, continuo ad essere, tutti i lavori sui anni 70, per cui, questo mi sembra, veramente, un esempio di un cinema, anche questo, estremo nel suo essere, nel suo restare, su questo viso, e un altro dettaglio, che mi ha colpito, minore, però non troppo, che dà un grande espressore al personaggio, che mi sembra di ricordare, perché vado a memoria, di quando l'ho visto qualche mese fa, mi sembra ricordare, che intorno a questo tavolino, insomma, vicino a questo famoso primo piano, che vedrete nel film, gira, intanto compare una ragazzina, un adolescente, di 15, 16 anni, e che probabilmente è la figlia, di, ecco, c'è, in questo, in questo contrasto, fra l'età di questo uomo, che comunque ormai è anziano, si capisce che ha avuto questa ragazza, questa bambina da, insomma, non troppo in là, ecco, molto anziano, a sua volta, ecco, restituisce questa bambina, che gira intorno, restituisce, ecco, il fatto che quest'uomo, sia ricostruito, completamente, una seconda vita, la seconda vita, e quindi, lui sta parlando di un periodo, che non c'è più, e anche questo, aggiunge un certo sentimento, un certo, posso dire anche strazio, a quello che, che Agrippino ha vissuto, vabbè, io direi che anch'io ho parlato troppo, grazie Francesco, ne hai parlato benissimo, grazie, credo che tu sia andato veramente a fondo, del lavoro di Piero, l'altro giorno, quando ci siamo sentiti al telefono, io le ho detto, insomma, è un film toccante, proprio in questa sua, in questo suo essere, così attaccato al personaggio, e così attaccato a questo primo piano, come dicevi tu, e io mentre lo vedevo, ho avuto la sensazione, che tutte, come dire, che racchiudesse, che quel primo piano racchiudesse, tutto quello che è il linguaggio del cinema, e le scelte, le inquadrature, che utilizza un regista, perché c'era la profondità di campo, c'è il primo piano, c'è il piano d'ascolto, c'è tutto, eppure è solo su di lui, e ho avuto proprio questa netta sensazione, mi sembra che sia stata anche la tua, quindi, ecco, e credo che questo sia anche un bel regalo allo spettatore, perché siamo sempre più abituati a essere portati lontano dai personaggi, perché a volte c'è un problema proprio di costruzione dell'inquadratura, e quindi quello che è intorno finisce per avere più importanza, è come se si volesse togliere l'attenzione da ciò che invece deve avere l'attenzione, ecco, la scelta di Piero va controcorrente, insomma, molto significativa. Non ti avevo risposto in Francia, devo dire che l'accoglienza era stata un po', Francesco, da fine regista qual è, ha colto delle cose che in Francia mi continuavano a chiedere, e avevano perfettamente capito, ho avuto delle proiezioni sia a Lione che a Parigi, dove il pubblico dopo non se ne andava, ho fatto una mattinè al Cinema di Panteon, che è un cinema storico del quartiere latino, con una sala doppia di questa, 150 posti, mattinè, 11 di mattina, arrivo, dico chissà, insomma, sala piena, sala piena, pubblico pagante, erano le 11 di mattina, ecco, l'agenzia è rimasta più di una e mezza a fare domande, e più o meno del tono hanno colto le cose, sia del cinema che dicevi tu, che del quattro, l'ultima, l'ultima cosa, questo film lo dedico a Dario Fo, perché vedrete che c'entra con la storia, non vi voglio dire altro, c'entra con la storia Dario Fo e Franca Rame, lo capirete dal film, e poi il finale, lo capirete, ma c'è un perché, perché il figlio di questo grippino, che è la cosa bella, è che lui ha avuto questo sentimento positivo, due di questi sono molto, no, molto, sono famosi, sono due ballerini famosi, che hanno ballato già i Bolshoi, hanno ballato, adesso uno è il ballerino numero uno di Vienna, hanno ballato con Carla Fracci, e questo lo dico perché, questo ballare, e io dico un clean due, alla fine si capirà, è che il continuare a scappare, l'agilità di grippino, e tutte le cose che possono essere negative, in realtà, le ha trasmesse in positivo ai figli, questa è un'altra cosa. Basta. Sì. Cristian. No, lasciamo parlare adesso Cristian, Cristian, ho anticipato che tu hai, appunto, scandagliato un periodo, che sono 15-20 anni, forse, anche questi, e, confesso che, insomma, sono uscita un po' dalla lettura, che ho fatto esplicativamente, perché, come sai, poi, il libro, l'ho avuto da pochissimo, però, come dire, ho capito che mi dovevo poi rimettere a studiare seriamente, lo farò, perché, come molti, l'idea del cinema politico in Italia, è legata agli autori, che ricordavo prima, no, a Petri, a Lizzani, a Ponte Corvo, autori che, invece, un critico, illuminato, intelligente, come Enzo Ungari, aveva bollato come mediocri, come proprio mistificatori, quindi, il contrario di quello, che comunemente si pensa. Il cinema politico in Italia, è stato un fenomeno, estremamente sfaccettato, che ha avuto in alcune riviste, ombre rosse, cinema e film, cinema nuovo, come dire, supporter di peso, e che ha, come dire, assunto, come mezzo di battaglia, anche una rivoluzione, che è arrivata in quegli anni, che è quella del cinema, del video, del cinema elettronico, che fa il suo ingresso, e che rivoluziona, veramente, e diventa un modo, per, come dire, per sparigliare le carte, e fare del cinema, politico, militante, nel vero senso della parola. Allora, intanto, perché hai sentito l'esigenza, di mettere, di fare chiarezza, in questo periodo, così complesso, e, anche, che tipo di fascinazione, tu hai avuto, per la storia, di quel periodo, perché credo, che le due cose, siano strettamente legate. Sì, allora, anch'io ringrazio, ringrazio, grazie, Piero, grazie, e grazie, tutti gli amici, che sono qui al pubblico, insomma, vengo subito, alla domanda, e, allora, un po', la mia risposta, assomiglia, a quella di, di Francesco, io sono nato, due anni dopo di lui, quindi, 71, e quindi, anch'io, ho vissuto, quegli anni, certamente, così, emotivamente, oggi, mi porto dietro, un ricordo, che non è, certo, lucidissimo, sì, dall'atmosfera del 78, di Moro, i posti di blocco, quelle cose, me le posso ricordare, insomma, indubbiamente, ero abbastanza giovane, però, anch'io, ho sentito la necessità di doverci tornare, ecco, di tornarci sopra, successivamente, a quegli anni, e di farlo attraverso lo strumento, che mi ritrovavo, più così, congeniale, ossia, appunto, il cinema, e, e, allora, quello che è successo, sostanzialmente, è che, in prima analisi, mi sono avvicinato agli anni settanta, in quanto anni di piombo, al punto da dedicare uno studio, insomma, della rappresentazione del terrorismo nel cinema, che usava un po' questa etichetta, quello proprio di anni di piombo, parlavo di schermi di piombo, ed è stato per me molto interessante, insomma, indagare tutta la filmografia, molto in realtà ampia, sui terrorismi, naturalmente, non certo solo sul terrorismo rosso. Dopo un po' di tempo, però, mi sono reso conto, che, insomma, tutta l'altra faccia degli anni settanta, che, naturalmente, non sono solo anni di piombo, da questo punto di vista, per me restava, sostanzialmente, da scoprire. Poi, chiaramente, per quello che riguarda il dibattito storiografico, lascio la parola a Vanessa, però, certamente, sul piano, diciamo, della cultura visuale, vorrei dire, non solo del cinema, ma parlo quindi anche di immagini fisse, cioè, della fotografia, parlo di video, di cinema, o comunque, di materiale cinematografico. Ecco, da quel punto di vista, c'era tanto da riscoprire, del lato non di piombo, ecco, non plumbe o di quegli anni. E io ho cercato di fare questo, attraverso, diciamo, tre capitoli, che vanno dal cinema, proprio dall'esperienza del cinema, quello fatto in pellico, il cinema militante, al video, quindi all'uso delle prime telecamere, quindi dei nastri, dell'elettronica, fino alla fotografia, cercando di indagare quest'altra faccia degli anni 70, che è la faccia, appunto, più vitalistica, la faccia più legata a una intenzione, diciamo così, a un'intenzionalità politica molto radicale, naturalmente, perché poi significava scendere in piazza armati di cinepresa, ecco, io parlo molto, cioè, l'intento militante era un intento militare, nel senso di militare con la macchina da presa, naturalmente, di usare, questo anche Zavattini, usava dei termini molto forti, però, scendere in piazza e usare come arma, tra virgolette, appunto, la macchina da presa, e questo mi ha sempre molto affascinato, quindi, però, sostituire questo strumento a uno strumento ben più offensivo, come, diciamo, le pistole e da lì è venuto fuori, appunto, un magma, come dire, abbastanza inestricabile, non di film, perché qui non possiamo parlare di film, ma sono, appunto, materiali, materiali spesso non conclusi, spesso anche rozzi, ma estremamente interessanti, penso agli stessi cinegiornali del movimento studentesco, i cinegiornali liberi di Zavattini, eccetera, però, ecco, una cosa, volevo dire, che si ricollega in questo modo ad Agrippino e si ricollega a Ossigeno, ecco, mi rendevo conto mentre parlava anche Francesco, parlavamo di un film, appunto, di biografico, di biografia, ecco, il film di, appunto, Ossigeno si ricollega esattamente a questa tradizione qui che ho cercato di indagare, a me interessava il lato, dicevo, cioè la vita, a me interessava capire come questi movimenti, dal punto di vista dei collettivi, dal punto di vista di gruppi che facevano cinema anche utilizzando il video, penso a Videobase, ma penso anche allo stesso Alberto Grifi, facessero cinema o video politico alla ricerca però della vita, no? E quindi, cercando di indagare i soggetti che potessero essere Anna o potessero essere invece la popolazione di Carloforte in Sardegna o altre situazioni, diciamo, i quartieri popolari di Roma, eccetera, però cercando di indagare non soltanto le parole d'ordine, anzi, le parole d'ordine della politica erano bandite tutto sommato, c'era un intento etnografico, antropologico che è esattamente quello, non a caso Piero viene da quel tipo di cinema, che è presente in ossigeno, cioè stavano addosso ai loro personaggi e ci stavano grazie soprattutto poi all'arrivo del video, quindi alla possibilità del long take, cioè alla possibilità di girare in continuità che il video diciamo dava, all'inizio non duravano tanto queste cassette, ma comunque davano più elasticità, davano più agilità rispetto alla pellicola e c'è molto di quello che poi ritroviamo in ossigeno, cioè questo stare addosso al soggetto e di lasciarlo parlare, c'è un film di video base realizzato da video base un video si chiama Carcere in Italia dove loro intervistano questo appunto questo questo quest'uomo che sta a Regina Celi di origini sarde racconta tutta la sua vita ed è un piano sequenza che durerà credo 16-17 minuti in continuità anche a un certo punto anche troppo probabilmente ma in cui viene fuori tutto un flusso un flusso di coscienza molto interessante e lì c'è proprio un'idea ed è lì l'idea politica l'idea è proprio quella di non censurare di non frammentare il racconto e di lasciare emergere quei soggetti che invece non avevano la parola a cui la comunicazione ufficiale non dava la parola e quindi in questo senso io parlo di un contropotere contropotere dal punto di vista della comunicazione si parlava di controcomunicazione di controinformazione ma proprio di contropotere da questo punto di vista fondato su un intento che io definirei proprio biopolitico in cui la vita è al centro di tutto ecco perché è l'altra faccia da questo punto di vista degli anni 70 ed ecco perché qui non è forzato il collegamento si arriva al lavoro appunto di Piero che si ricollega secondo il conquista tradizione perché pur affrontando la figura di un ex terrorista quindi sulla carta si penserebbe a un certo tipo di lavoro a lui no a lui interessa l'aspetto biografico interessa quel bios diciamo quell'aspetto che anche a me è interessato ad andare a indagare e che ritroviamo in tantissimi in tantissimi materiali di questi anni ripeto io c'è il caso di Videobase che è un collettivo che ha realizzato moltissimi lavori nel corso degli anni 70 ha utilizzato tra i primi hanno utilizzato appunto la tecnologia elettronica ma Griffey voglio dire è un nome molto più noto da questo punto di vista ecco insomma in questa prospettiva secondo me il lavoro di Piero si ricollega a questo tipo di filo di filo rosso io volevo dire che il bello del libro il bello del libro è che almeno io sono stato affascinato e che avendo iniziato io in pellicola mi ricordo ho fatto il 35 proprio pochissimo però il 16 il 16 di invertibile le Lumatic il BVU il Beta il Beta SP e poi arrivate le opassette tutte e lui e Cristian non solo fa un'analisi politica ma fa un'analisi politica del mezzo questo l'ho trovato fantastico perché soprattutto per chi l'ha vissuto ma anche secondo me chi non l'ha vissuto è interessante vedere come in qualche modo il mezzo ha condizionato o non solo o comunque ha interagito con con il lavoro e c'è una parte dedicata proprio a questo io mi riconoscevo insomma io l'ho letto l'ho letto in tre notti perché l'ho bevuto e anche da questo punto di vista ecco la politica del mezzo secondo me grazie grazie volessa allora io come diceva Craxi sarò breve ma lo sarò veramente e io sono una storica sui generi nel senso appunto perché oltre a essere cioè io mi occupo del rapporto fra visualità e storia quindi come la storia viene raccontata e rappresentata e innanzitutto ovviamente nel corso essendo l'ultima che interviene tre hanno detto poi a questa cosa ci penserà Vanessa ma io non ho nessuna intenzione di andare a prendere tutte e tre le cose che avete voluto come dire lasciarmi e sbiscerarle se no ci staremmo tutta la sera io dirò soltanto tre cose la prima cosa diceva Francesco sul decennio dei settanta c'è molta autobiografia è vero ed è vero appunto anche io avrei fatto notare questa differenza di prospettiva cioè di chi guarda il decennio con una prospettiva diciamo per cercare di capirlo e chi invece c'è stato dentro appunto e va a ricercarne ad indagarne degli stralci dei pezzi dei margini che sono stati invece meno raccontati poi da questa autobiografia di gruppo che si è creata sul decennio sugli anni settanta per questo i due lavori appunto di Piero e di Francesco sono preziosi e vanno probabilmente invece proprio anche pensati insieme e non per fare pubblicità ma anche il libro di Christian ma in questo senso cioè ci ricostruiscono non solo come dire il rapporto di un decennio con l'immagine ma anche il rapporto della nostra contemporaneità con un immaginario che è appunto quello legato a quel decennio visto che abbiamo fatto tutti i outing io sono la più giovane e rispetto appunto al decennio mi viene in mente sempre una frase che è contenuta in un disco che è stato se non sbaglio è uscito l'anno in cui sono nata che è storia di un impiegato di Fabrizio D'Andrea nel quale nell'introduzione si dice e mi sorprendo ancora a misurarmi su di loro ecco io mi sorprendo quotidianamente a misurarmi con il decennio dei settanta non soltanto perché il decennio dei miei genitori non soltanto perché io sono figlia appunto di due genitori che sono stati profondamente dentro quel decennio ma proprio perché ancora mi interpella come storica come appunto è come storica che ragiona sugli immaginari fra gli immaginari di questo decennio uno dei meno indagati e uno più sicuramente invece dei più importanti da indagare è proprio quello relativo al carcere e c'è un'altra frase di storia di un impiegato che dice appunto loro avevano il tempo anche della galera che cosa voleva dire era lo sguardo di questo piccolo borghese che guardava quelli che invece avevano il tempo stavano all'università avevano il tempo anche di andare in carcere con questo sguardo un po' appunto che rimproveravano in realtà il tempo della galera il protagonista di questo documentario forse non avrebbe voluto avercelo non c'era appunto questo snobbismo di fondo che veniva raccontato nella storia di un impiegato dal piccolo borghese ritratto da De André vent'anni di carcere nessuno ha il tempo in una vita di farsi vent'anni di carcere soprattutto secondo me non c'è nessun motivo mai per farsi vent'anni di carcere ma soprattutto se appunto la storia è quella che verrà raccontata che vedrete insomma raccontata in questo film e che io voglio semplicemente come dire della quale voglio semplicemente delinearvi una possibile genealogia e delle parole chiave che ci servono a collocarla a inquadrarla e a capirla queste parole chiave partono dagli anni 60 appunto arrivano agli anni 70 la prima parola chiave secondo me è quella della malattia mentale la malattia mentale che insieme alla questione del carcere rappresenta l'orizzonte primo attraverso il quale si struttura un nuovo pensiero degli anni 60 che ha in un libro per esempio come appunto quello poi che si sfucerà negli scritti di Basaglia ma che nasce soprattutto dagli scritti di Fanon e quindi dai dannati della terra un momento di origine fondamentale fondamentale nella storia anche che viene raccontata in questo documentario perché da malattia mentale a carcere si passa appunto a manicomio a un altro testo fondamentale di questo momento che è sorvegliare e punire di Foucault e quindi a tutto quel percorso che porta a leggere l'universo concentrazionario dentro le carceri come un universo politicizzato e politicizzante un passaggio che si fa tra il 67 e il 69 che sono gli anni appunto nei quali poi si inizia a ragionare nei movimenti sulla questione delle carceri per cui appunto poi dopo sono i materiali di cui parlava Christian e è incredibile come in questa figura di cui tu appunto racconti la storia precipitano proprio tutti quanti anche se tu non li li metti sullo sfondo però se uno volesse fare proprio una storia del rapporto fra appunto la politicizzazione in carcere l'orizzonte culturale da cui questa politicizzazione proviene e il soggetto politico che per primo si incarica di farla diventare come dire rottura politica non solo riformistica come stavano facendo in quel momento appunto in molti in Italia ma proprio militante di lotta armata ovvero in atto che proprio sulla questione delle carceri iniziano proprio a intervenire ecco effettivamente no? in Agrippino questa roba precipita infatti con soccorso ma io non volevo spoilerare come direbbe mia figlia il motivo per cui insomma non volevo arrivarci a soccorso lo so però effettivamente la genealogia no? è questa è una genealogia che appunto vede nella questione del rapporto fra appunto politicizzazione in carcere e questione delle carceri un nesso fortissimo io credo che un merito importante di questo film sia il fatto che cioè qual è secondo me non sia là qual è secondo Adorno la funzione dell'intellettuale è quella di squarciare il velo della duplicazione no? cioè l'intellettuale non deve duplicare quello che vede ma deve squarciarne appunto come dire la realtà oggettiva per leggerla allora che cosa fa Ossigeno? Ossigeno entra a gambia tese dentro un immaginario di un decennio abbastanza stratificato codificato che il cinema appunto come ci ha raccontato Cristian perfettamente costruisce ormai da 30 anni in modo abbastanza sistematico e ne prende un aspetto sgradevole marginale attraverso una persona che anche da un punto di vista filmico estetico non è l'eroe ma è proprio una persona un po' scalcagnala molto simparia però abbastanza provata dalla vita insomma poi tu dici ci passava una figlia certo con 10 figli è facile che uno te ne passa intorno mentre ti fanno un'intervista però appunto all'interno di questo documentario Piero che cosa fa? squarcia appunto il velo della duplicazione lo specchio della duplicazione e ci fa vedere un appunto in modo completamente antiretorico un aspetto marginale ma centrale di un decennio che veramente ne rappresenta un po' la cartina di Tornasole perché attraverso la sua storia noi leggiamo appunto la storia di un decennio nel quale fondamentalmente si è ragionato su come uscire da quell'universo concentrazionario della malattia mentale delle carceri della repressione del sorvegliare e punire che insomma veniva da lontana e che poi da un punto di vista riformistico sarebbe andata lontano perché del 75 è la prima riforma appunto delle carceri poi abbiamo insomma la riforma Basaglia fonda 180 fondamentale e che però poi insomma paradossalmente non è riuscita a mitigare invece certe situazioni come quella di Agrippino che proprio negli stessi anni in cui queste cose succedevano è finito appunto il manicomio e è stato vent'anni in questa situazione e poi appunto insomma non raccontiamo com'è finita però per cui niente grazie appunto di averci scelto questo sguardo e niente basta così grazie a voi grazie io penso che prima di lasciare finalmente al film non so se vuoi dire ancora qualcosa raccontare un minuto posso dire che quello che vedete non sono le cose più forti che ho raccontato perché io ho voluto creare un climax non volevo per forza fare la cosa più dura quello che c'è mi serviva per raccontare da un lato il passato e poi il presente intanto poi il percorso produttivo che io a un certo punto quando l'ho finito anch'io ero un po' insomma emotivamente toccato e quindi ho detto bene voglio fare delle verifiche intanto ho trovato dei giornali quindi quello che sentirete è tutto vero siccome non so se dopo ci incontreremo ci sono dei giornali che ho d'epoca in cui raccontano tutto quello che sentirete l'altra cosa che ho detto bene siccome ho avuto la possibilità di avere un amico amico di amici che era il direttore del carcere di Rebibbia che è cantone che adesso non è più andato alla generale della Toscana però è quello che ha fatto fare il film ai fratelli italiani quindi cosa vuol dire questo vuol dire che è una persona aperta l'ho invitato a casa di amici eravamo in 5 o 6 per fargli vedere il documentario un film e sentire un suo parere tecnico perché non volevo far uscire il film che poi dopo qualcuno mi dice ma che cosa dici bene gli ho fatto vedere questa visione gli ho fatto questa visione alla fine del film lui mi ha detto solo ma tu questo lo devi presentare a Rebibbia sono rimasto un po' così poi abbiamo piegato qualche mese per metterci d'accordo quando andare per problemi organizzativi sono andato ci sono stati 200 detenuti che sono venuti diciamo spontaneamente c'erano soltanto 10 persone della stampa dico questo perché dopo di che il film l'ho mandato a Venezia Müller lo voleva chissà dopodiché naturalmente hanno fatto e sono uscite qualche critico qualche recensione sulla France Prince sul fatto bene hanno trovato queste recensioni e quindi non l'ha preso perché ha detto no ma non è più ma come era una visglosia chiusa bene poi dopo però il percorso l'ha fatto con Gosetti è stato al feste di Curmaio e poi dopo adesso è stato sia la cosa bella che è stato anche adesso dico questo poi capirete perché è stato per esempio nelle situazioni anche più istituzionali per esempio a Londra all'istituto di cultura di Londra così come quello di Parigi quindi ha dei percorsi assolutamente particolari chiudo perché non so se dopo ci fermiamo o meno Agrippino ha scritto un libro questo con le sue poesie e con i suoi disegni che qualcuno qualcosina vedrete ma non ho voluto fare questo un altro film che la cosa curiosa di Agrippino è che nel suo percorso dopo quando è uscito e pubblicato il libro è preso la targa d'argento del Ministero dei Beni Culturali bene tutto quello che vi dico dopo lo capirete ancora meglio spero non so se basta no? grazie a me Grazie a voi, come dico, noi possiamo fare i film, le cineteche possono fare le programmazioni, ma se non c'è il pubblico è tutto troppo triste. Grazie a tutti.